Grazie E' Paolo! E' Paolo! Con il pettorale numero 8, Avila Lozani. Ecco un attimo, intanto sto raggiungendo il secondo atleta, vediamo un attimino se riesco a scordare. Bravo Pietro! Grande Pietro! Fuma, fuma! 46, Bottichetta, Spire! 12 verrà distribuito al Passaparte, naturalmente nella Giulia del Palazzetto. Viene a fare il giudice. Questa è la cosa. 13 secondi, la saggessore sportiva, la magra di Atletica, Pietro. sull'arri di mezzini l'architetto Conti pedale secondo l'assimilato un'ora, dieci minuti 53 secondi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!